16, a essere l'anzata, 17, di Zodi, 18, di bantertina, 19, 30, di bantertina, 20, G. Pitalamona, 19, polisportiva, Timao, Celius, 30, in Sudria, Sky Team, 30, 31, 2002, Marathon Club, 32, Borghienese, 102, Kenzianella, Junior, 103, Mancerola, Junior, 104, Manchiavena, Junior, 12, dopo i Junior, UF Maloppo, squadra A, 110, Maloppo, squadra G, 114, C. Potegno, squadra B, 132, C. Pitalamona, uf Maloppo, squadra A, 165, Borghiena, squadra B, 166, Paraghi, squadra G, 167, Paraghi, squadra G, G. Potegno, domani, 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 domani. Grazie! 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 Mordilo, mordilo! Mordilo, mordilo, mordilo! Mordilo, mordilo! Mordilo, mordilo, mordilo! Mordilo, mordilo, mordilo! 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 Mordilo, mordilo, mordilo! Mordilo, mordilo! Mordilo, mordilo, mordilo! Mordilo, mordilo, mordilo! Mordilo, 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 mordilo! Mordilo, 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 mordilo! Mordilo, 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 mordilo! Aller, 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 Kupi! Aller, Kupi, aller, 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 Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie.